E allora eccoli i nostri ospiti di oggi, Massimiliano Salini, Forza Italia, Partito Popolare Europeo, grazie di essere con noi, la capo delegazione del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin, grazie anche a lei onorevole, David Carretta, collega, corrispondente di Radio Radicale e del Foglio. Beghin, mi viene la tentazione di aggiungere anche in una prospettiva più ampia, mettiamoci anche le elezioni presidenziali in Francia del maggio prossimo. Io credo che già il messaggio che è arrivato dalla Germania è piuttosto chiaro, e cioè quello di un'Europa che vuole sicuramente rimanere centrata sull'Europa e quindi sono stati sconfitti, lo ricordiamo, i cosiddetti sovranissimi, l'Alternative für Deutschland, che è di alternativo ormai a molto più poco, ma ha anche una certa spinta verso tematiche progressiste e ambientali che devono essere fondamentali per quel che riguarda il futuro. Quindi io mi aspetto anche in Francia una risposta di questo tipo, quindi sicuramente più Europa, questa è la direzione, ma anche più Europa più equa, più orientata a temi sociali e ambientali. Questa è una domanda che hanno fatto moltissimi a moltissimi, però io la voglio fare anche a voi. Nel momento in cui comunque, anche se i tedeschi un po' di tempo ce lo metteranno a fare questo governo e forse Angela Merkel raggiungerà i famosi 16 anni alla guida del governo tedesco, però a un certo punto poi non sarà più alla guida del governo tedesco. Facciamo il caso del Consiglio europeo, no? Quindi i capi di Stato e di governo. Quanto favorisce l'emergere della presenza di Draghi? O indipendente magari? Ma sì, io obiettivamente non credo che oggi si giochi tanto su un tema di personalità e di persone. È chiaro che il presidente Draghi ha una sua credibilità, una sua importanza all'interno delle istituzioni europee, è innegabile. Credo che oggi si giochi più una partita legata a temi, forse più di una volta. E anche il fatto che non ci sia una successione così forte a una personalità così importante come quella di Angela Merkel va in questa direzione. Quindi io credo che i temi avranno più importanza e forse in una scacchiere di questo tipo diventa sempre più chiaro a tutti che senza l'Italia non si va da nessuna parte. Ma io non credo che sia senza Draghi, credo proprio senza l'Italia. Cioè il tema, e le chiedo ovviamente di commentare l'analisi di David Carretta, presidente Begin, anche del rischio di impopolarità. Quando parla di impostazione molto tedesca, poi ognuno, lo ripeto, ogni paese membro deve fare i conti con la propria opinione pubblica, usando la definizione larga. Assolutamente vero ed è corretta anche l'analisi che ha fatto in questo caso David Carretta. Oggi siamo al dunque e bisogna scegliere come arrivare ad una transizione ecologica ed energetica che però non è più procrastinabile. Quindi è vero, bisogna capire come sostenere questi costi, se farli sostenere solo all'industria, soltanto agli stati, se farli sostenere ai cittadini o a un mix di questi tre operatori. Potrebbe essere impopolare la scelta. Io però credo che a questo punto bisognerà decidere dove si vuole arrivare e come e quando. E non si potrà non farlo obiettivamente con un mix di questi tre interventi, cercando però di arrivare a non penalizzare sempre e in maniera direi molto pericolosa quelli che sono anche i poveri energetici. Cioè c'è una grande diseguaglianza a livello di Unione Europea rispetto a chi ha più possibilità e a chi ne ha meno. E obiettivamente noi abbiamo la necessità di implementare queste misure andando a fare veramente una scelta molto pragmatica. Il 110% che io ho sentito prima nominare in realtà è una misura che permetterà proprio a quelle famiglie che oggi già sono molto preoccupate del rincaro delle bollette di arrivare a un momento in cui i loro alloggi, la possibilità di spesa interna rispetto al riscaldamento, e già in Italia abbiamo anche grosse differenze per esempio tra nord e sud, non dovrà essere un problema e sarà la strada per fare in modo che quando si arriverà a un momento di grande difficoltà, perché ci arriveremo, certe famiglie possono essere più preparate. Quindi in realtà noi dobbiamo forse per una volta cercare di far pagare non un po' di più a tutti quanti, ma veramente un po' di più a chi se lo può permettere. Perché è interessante questo, c'è una retorica sulla difesa europea che poi alla fine cozza sempre contro la realtà? Ma è chiaro che non si può non fare i conti con quelli che sono i player internazionali in questo momento più forti e più importanti. Noi discuteremo anche sulle nostre relazioni con gli Stati Uniti proprio la prossima settimana a Strasburgo e molto c'è da dire sia da un punto di vista geopolitico che da un punto di vista commerciale. Quindi sì, certo, la realtà nostra si scontra anche con quelli che sono poi le volontà delle altre grandi potenze. Però l'Europa secondo me deve continuare a cercare di giocare un ruolo neutrale, seppur con la storica alleanza con gli Stati Uniti e con la Nato che non deve essere messa in discussione, ma deve cercare anche di diventare un po' più forte e un po' più autonoma e anche autonoma rispetto ai rapporti bilaterali con altre potenze. Diversamente da un punto di vista economico, per noi la strada è tutta in salita, la crisi dei semiconduttori, lo stesso problema legato al gas di cui si accennava prima, fanno tutti parte di una non indipendenza sotto tanti punti di vista che poi alla lunga si paga cara.